Perlavatiero rivela il vero motivo della separazione da Mirko Brunetti. La notizia della rottura tra Perlavatiero e Mirko Brunetti, ex protagonisti di Temptation Island e Grande Fratello, ha scosso profondamente i fan della coppia. Dopo mesi di speculazioni e voci di crisi, è arrivata la conferma della separazione. Le ultime settimane hanno visto un calo drastico delle immagini di coppia sui social, alimentando ulteriormente le preoccupazioni dei fan. Alcuni hanno addirittura accusato malori, mentre altri si sono riversati in discussioni accese sui motivi di questa rottura. In un momento così delicato, Perla ha deciso di rompere il silenzio. Con una lunga e toccante storia su Instagram, ha cercato di chiarire la situazione e di difendere la sua privacy, ma soprattutto ha espresso il suo dolore e la sua frustrazione. Le sue parole rivelano un lato vulnerabile e umano che fino a ora era rimasto nascosto dietro il luccicchio delle luci dei reality show. Sono davvero rattristata per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro, ha esordito Perla, visibilmente scossa. Non pensavo che potesse scatenarsi tutto questo odio. Avevo chiesto un po' di rispetto, è un periodo particolare e difficile, ma purtroppo non tutti riescono a comprendere. Preferiscono giudicare e mi dispiace tanto. Perla ha voluto chiarire che la decisione di chiudere la relazione con Mirko è stata presa in comune accordo e non a causa di terze persone. L'ex vincitrice del reality ha espresso il suo dispiacere per le accuse ingiuste rivolte a sua sorella Loana. La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento, che non ha mai influenzato le mie scelte, anzi, ha lasciato che sbagliassi e crescessi, ha dichiarato Perla. Perla ha anche rivelato che, a causa della pressione e dell'ansia crescente, ha iniziato una terapia per affrontare questo difficile momento. Non ho bisogno di dirvi che sto male, che sto facendo anche terapia da un mese e mezzo. Questa situazione mi sta creando tanta ansia, vedere anche le persone che mi stanno accanto stare male per me. Non c'è colpevole, chi sta soffrendo di più o chi meno, stiamo male entrambi. Ha quindi annunciato una decisione radicale, ora mi è stato consigliato di andare un po' via, staccare da tutto, anche dai social e così farò. Il messaggio si conclude con un sincero ringraziamento a chi le è stato vicino. Vorrei salutare chi mi ha sempre sostenuta e mi ha dimostrato il suo affetto. Non è un addio, ma un arrivederci mentre cerco di ritrovare un po' di pace. Con queste parole, Per Lavatiero ha deciso di prendersi una pausa dalla vita pubblica per ritrovare se stessa e affrontare le sfide personali in modo più sereno. La speranza è che questo periodo di riflessione possa portarle la pace e la chiarezza di cui ha bisogno per ricominciare. Il mondo del gossip, per quanto possa offrire occasioni di visibilità e successo, può trasformarsi in un'arma a doppio taglio, specialmente quando le voci diventano incontrollabili e le indiscrezioni si mescolano alla realtà. Questo è esattamente quello che è successo tra Beatrice Luzzi e la nota esperta di gossip Dejanira Marzano, creando un acceso dibattito sui social media. Beatrice Luzzi, stufa delle continue illazioni che circolano sul suo conto, ha deciso di rompere il silenzio e accusare direttamente Dejanira Marzano di diffondere notizie false per attirare attenzione. In un post polemico su X, ex Twitter, Luzzi ha scritto, questa sarà la prima e ultima volta che commento le menzogne che incessantemente divulga questa signora al solo scopo di far girare il suo nome sulla pelle degli altri. Tutto ciò che scrive, così come le supposizioni passate, sono prive di ogni fondamento. È una persona che non ha mai dimostrato affidabilità e non ha nessuna credibilità. Invito tutti a smettere di seguirla e, soprattutto, di crederle. Dice solo bagianate. Ripeto, non risponderò mai più a niente di quello che scrive perché non merita neanche un istante del mio e del vostro tempo. Il bersaglio delle accuse di Beatrice Luzzi è stata una recente storia di Instagram di Dejanira Marzano. Nella storia, Marzano riportava la notizia, ricevuta da una follower, secondo cui Luzzi avrebbe avuto due incontri segreti con Vittorio Menozzi a Milano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. La parte più controversa della notizia era l'affermazione che gli incontri fossero stati mantenuti segreti per tenere buoni i beabaldi, termine utilizzato per riferirsi ai fan. Dejanira Marzano non ha tardato a rispondere alle accuse di Beatrice Luzzi. In un commento incisivo, Marzano ha affermato, Il fatto che tu stia smentendo tutto quello che ho detto in questi mesi, che non era altro che cose carine nei tuoi confronti, mi fa pensare che tu stia smentendo anche la storia con Giuseppe. Questo è grave, se hai usato un intero fandom a tuo favore lasciandogli credere cose che non sono vere. Detto ciò, visto che sei per la verità e accusi me di non esserlo, perché non comunichi al tuo fandom a che punto è la situazione con Giuseppe? Sai, loro hanno pagato per le serate di coppia perché credevano che voi foste una coppia. Il confronto tra Beatrice Luzzi e Dejanira Marzano ha scatenato un vero e proprio caos sui social media, con i fan divisi e le polemiche che si intensificano. Le accuse reciproche e le smentite hanno portato a una crescente frustrazione tra i sostenitori delle due parti, sollevando interrogativi su chi stia dicendo la verità e quale sia la reale situazione. Mentre la disputa continua a infiammare il web, la domanda principale rimane, chi avrà la meglio in questa battaglia pubblica? E, soprattutto, i fan riusciranno a orientarsi tra le versioni contrastanti e a decidere di chi fidarsi. La situazione resta aperta e il dibattito prosegue, con entrambe le parti determinate a difendere la propria posizione. Negli ultimi giorni, i riflettori del gossip internazionale sono stati puntati su Tom Cruise, il celebre attore americano che a 62 anni sembra aver trovato una nuova fiamma. Dopo la fine della sua relazione con la modella russa Elsina Cairova, Cruise si è recentemente avvicinato alla giovane cantante Victoria Canal, un nome che sta rapidamente guadagnando attenzione nel mondo dello spettacolo. Scopriamo di più su di lei e sui dettagli che circondano questa nuova storia d'amore. L'ultima apparizione pubblica di Tom Cruise risale a pochi mesi fa, quando l'attore è stato avvistato insieme alla modella Elsina Cairova, figlia del politico russo Rinat Cairov. Tuttavia, la relazione tra i due è terminata all'inizio del 2024, lasciando spazio a nuove speculazioni su chi potesse essere la prossima compagna di Cruise. Le voci si sono intensificate quando, di recente, si è saputo che l'attore stava frequentando Victoria Canal, una giovane artista che ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media. Victoria Canal è una giovane cantante di 25 anni, che ha suscitato l'interesse di Tom Cruise dopo averlo incontrato al Festival di Glastonbury in Inghilterra. La carriera musicale di Canal è stata avviata grazie all'interessamento di Chris Martin, il frontman dei Coldplay, che ha scoperto il suo talento durante la pandemia e l'ha inserita nella sua etichetta discografica. Canal è nata a Monaco di Baviera, ma ha trascorso gran parte della sua vita in città come Shanghai, Tokyo, Barcellona, Madrid, Dubai e Amsterdam. Definendosi ispano-americana e bisessuale, Victoria Canal ha avuto una carriera musicale promettente sin da giovane, nonostante sia nata con una condizione rara nota come sindrome della banda amniotica, che le ha impedito di sviluppare l'avambraccio destro. Il primo incontro tra Tom Cruise e Victoria Canal è avvenuto al Festival di Glastonbury, dove Victoria, invitata da Chris Martin a salire sul palco con i Coldplay, ha avuto l'opportunità di parlare con l'attore. Successivamente, Cruise ha invitato Canal sul set di Mission, Impossible 8, in Oxford Shire, dove la cantante ha potuto vedere da vicino le spettacolari acrobazie dell'attore. Secondo fonti vicine alla coppia, i due sono ormai inseparabili e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Victoria Canal ha pubblicato la sua canzone In Swansong nel 2022, che è stata lodata da Chris Martin come una delle migliori canzoni mai scritte. La sua musica riflette una combinazione di influenze globali e un'autenticità che ha conquistato molti fan e critici musicali.La notizia della nuova relazione di Tom Cruise ha scatenato una serie di reazioni sui social e nei media. Mentre alcuni applaudono la coppia e si dicono entusiasti di vedere come evolverà la loro storia, altri sollevano domande su come questa differenza di età e le diverse esperienze di vita possano influenzare la loro relazione. In ogni caso, la giovane e talentuosa Victoria Canal sembra essere il nuovo volto che, insieme a Tom Cruise, ha catturato l'immaginazione del pubblico.con il passare del tempo. Sarà interessante osservare come questa nuova storia d'amore si sviluppa e quali ulteriori dettagli emergeranno su questa coppia affascinante.